Franco Alfieri va avanti con la sua campagna elettorale e non si dimette. Sono queste le rassicurazioni che arrivano dalla segreteria del sindaco di Agropoli dopo le voci sull'incontro che Alfieri ha avuto a Roma con il braccio destro di Renzi, Guerini. Solo un'occasione di confronto e di chiarimento, così l'entourage di Alfieri definisce il tette a tette che però, secondo la stampa nazionale, avrebbe posto un freno alla candidatura del primo cittadino in ragione proprio dell'escamotage messo in piedi da questi per evitare il commissariamento del suo comune e garantirsi comunque la corsa per uno scranno a Palazzo Santa Lucia. Il PD romano avrebbe infatti messo in chiaro che Alfieri, come gli altri sindaci che lo hanno seguito a ruota nel crearsi un'incompatibilità in comune per correre alle regionali, devono dimettersi per poter vedere accettata la propria candidatura e questo per evitare altri motivi di imbarazzo all'interno del partito. Ma stando alle dichiarazioni della segreteria di Alfieri, il primo cittadino è più che tranquillo e continua il suo cammino anche perché la competenza sulle liste è della segreteria regionale e provinciale a cui in effetti è stata passata la patata bollente. Quindi il procedimento di decadenza del sindaco di Agropoli Alfieri continua. L'ultimo consiglio comunale sul tema verrà convocato prima della fine di aprile come stabilito dall'Iterra stesso. Il primo cittadino conta dunque nei suoi agganci e nella possibilità di manovre a livello regionale e provinciale. D'altra parte i termini per eventuali dimissioni potrebbero già non esserci più. Insomma Alfieri segue la corrente che sembra essere ormai diventata quella dominante in politica fatta propria anche dal suo leader Vincenzo De Luca. Chi la dura la vince.